Puntinata, IGT Malvasia Puntinata. Il nome del vino in onore della varietà di uva, Malvasia. Un'uva diffusa nel Lazio, che si caratterizza per avere un puntino sulla parte posteriore dell'acino. Non è un vitigno aromatico, ma è un vitigno molto profumato. Viene raccolto nei primi giorni di settembre, vinificato in bianco. Resta in acciaio per seti e otto mesi, dopodiché viene messo in bottiglia. Presenta un colore giallo paierino brillante, un profumo fragante, floreale, molto intenso. In bocca molto consistente, sapida. L'abbinerei con primi piatti, antipasti e nello specifico con zuppe di legumi.